Mi hanno mandato un gioco di ruolo che è un karaoke Dobbiamo fare sempre questo Lo facciamo? Ma stai scherzando? Facciamo un episodio speciale di storia di vapore Oddio! Facciamo un episodio di musico Facciamo un episodio di musico La prossima stagione è tutta così No, allora No, dai, dai No, no, allora Con calma Non sono brava, va bene Cioè, figgi Episodio finale di questa stagione Credo di aver aperto Perdonatemi, cari ascoltatori Ho aperto un vaso di Pandora Non pensavo che sarebbero state così entusiaste In che senso è un karaoke? Non lo so, ho visto solo il titolo L'ha mandato Batman sul gruppo Discord Grande Batman, grazie, sei un eroe È l'eroe di cui abbiamo bisogno Esatto Non so se sarà il gioco di ruolo che ci meritiamo Lo scopriremo solo dopo aver cantato Ma io sono preso bene È figo E Emilio vuole fare il cantante adesso Sì, sono gasato Sono pronto a cantare Incredibile Sono un umile cantore adesso Un umile cantastorio Il cantore era più divertente Mangiandovi vuole rovinare le battute stasera Ciao a tutti Sono Emilio Palmerini E sono qui con Giada Terribelli Ciao, ciao Che bello Faremo un episodio karaoke Non oggi Però io poi lo faremo Io speravo che il cold start Fosse finito Prima dell'introduzione Ma no E Viola Sanguinetti Ciao Ciao Scusami Dove, 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 Viola? No, basta E' terribile Cancella questa cosa Giada E ditela via No, scusate Mi fa troppo ridere l'idea Perché Avete presente quelle serie tv serie In cui a un certo punto C'è l'episodio in cui tutti cantano Ma anche noi Non è che sono serie Però Cioè, capito Sì, sì Quando non te l'aspetti Ma c'è l'episodio Sì Quelle che ho visto Però Ho presente Ho presente Presente Critical Role dovrebbe fare un episodio musical No, non diamo gli idee No Ai nostri Ai nostri rivali Ai nostri Diretti contenti Diretti contenti E questo Forse È il settimo episodio Sì Di questa stagione Di Storie di vapore Nello scorso episodio Abbiamo aperto con Il nostro gruppo di Wannabe Cacciatori di criptorei Sulla spiaggia Ad ammirare il mare Per la prima volta Nella loro vita Abbiamo scoperto Che Velante Già sapeva cose sul mare Le aveva lette E sentite nelle leggende Che Tacito Sapeva già cose Sulle conchiglie Che sapeva che erano fossili Del mondo di sopra Perché le aveva viste All'università E abbiamo visto Una Rita Molto molto spaventata Dal mare Pronta quasi Ad andarsene Nel mondo di sopra Dopo averla tranquillizzata E aver fatto un riposo lungo Sugli scogli Abbiamo deciso Di avventurarci Nell'isola a nord Da cui Proveniva Il segnale Diciamo Dell'oggetto magico Che ha Ametista Che ci segnala Dov'è il criptorio Ma accorgendoci Che effettivamente La marea si era alzata E che non eravamo In grado quindi Di nuotare Io Stavo dicendo Io Ametista e Rita Grazie ad Ametista Abbiamo volato Fino all'isola Per poi Scoprire Che c'è Una montagna Con sopra Una statua dorata Di un nano Che scavando Abbiamo scoperto Che è sul capitello Di una colonna Di probabilmente Un vecchio tempio Ma distratte Da questa cosa Non ci siamo resi conto Che il resto Del gruppo Che invece Stava attraversando Per mare Il mare È stato Attaccato Da qualcuno Perché Ce l'ha segnalato Attraverso due Razzi segnalatori E quando Ametista Si è alzata in volo Per controllare Ha visto che Alcuni di loro Erano insanguinati E quindi siamo pronti A ritornare Tra le nuvole E le storie Di Kumo Ricominciamo da lì Correte Giù dal pendio Della montagna Spostando i cespugli Guidati da Rita Che si sta catapultando Più veloce che può Verso la spiaggia Verso la scena agitata Che avete visto Sbucate fuori Dal bosco Ed emergete Nella spiaggia Davanti a voi C'è Fiore Che ha estratto La spada E si è girata Sembra essere ferita Pesantemente Parte della casacca Imbevuta di sangue E sta pian piano Retrocedendo Ma la cosa Che vi colpisce di più È l'enorme Criptorio Che è uscito dal mare Davanti a lei Cinque teste Mostruose Emergono da un unico corpo Ancora nascosto Sotto alle onde E terminano In vecchi aguzzi E ricurvi in avanti Come lame Piccoli occhietti rossi Brillano sopra E sia la testa Che il collo È ricoperto Di piume Di vari colori Sembra essere La versione Molto più grande Molto più imponente E terrificante Di quei fenicotteri Che avete incontrato Il giorno prima Fatemi un tiro su percezione Diciannove Sette Tu Olga non ti accorgi Ma Ametista Ti accorgi subito Che tra le teste Sono tutte cinque Distratte da fiore Per il momento Si slanciano in avanti Tentando di morderla E ferirla ancora E lei le devia Con la spada Ma sotto le teste C'è il corpo di Tacito Non riesce a capire Se Com'è la situazione Ma intravedi Per un attimo Questo piccolo Corpicino Nella sabbia Proprio dove finisce La battigia E sopra Questa gigantesca creatura Sta pian piano Uscendo dall'acqua E inizia a vedere Già le prime zampe Con gli artigli Non c'è traccia A questo punto Né di Cecilia Né di Chiara Né di Aurora Sono soltanto fiore E forse Tacito Tirata su iniziativa Ma Avevo visto Cecilia E E Chiara Con la spada Quando ti rialzati in volo Si avevi visto Cecilia E Chiara correre Ma solo fiore Fermarsi Quindi non so dove sono Diciamo Ho fatto un bellissimo Sei Ok Mi sono accorto Che io non ho preso Né i dadi Né la carta Arrivo subito Quindi è un uno A tutti i diri Ah automatico Non è Ah ok Non avevo capito Stavo pensando al mio uno Che ho fatto adesso In iniziativa Ah Siamo messi bene Con l'iniziativa Mamma mia È già Il secondo tiro passo Stasera Stiamo partendo male Non c'è i miei dadi Emilio Qua c'è un portadadi Il tuo portadadi E come facciamo a vederlo Yes È il mio portadadi Allora mi sembra che abbiate fatto poco Quindi Ti sembra giusto Ametista tu Totale quindi Sei Vedete che Rita Piomba sulla spiaggia Vede Fiore in difficoltà E corre di fianco a lei Alza i pugni Durante la corsa Si è infilata I guanti Con i tirapugni Che usa per combattere E quindi alza Entrambe le braccia E si mette in guardia Di fianco a Fiore Coprendole un fianco Vedete la testa Della creatura Del criptorio Che si lancia verso di lei Rita la colpisce Con un gancio Rispedendo indietro Poi tocca a Fiore Che tenta di colpirla Con la spada Vedete la spada Che passa attraverso la testa Che tenta di colpire E colpisce la sabbia Di sotto Le due si dicono qualcosa Ma siete ancora Troppo distante Della scena Troppo concitata Per sentirle Tocca al criptorio Vedete che Appena la spada Di Fiore colpisce Il terreno L'altra testa Del criptorio Colpisce la spalla A destra Vedete un altro Schizzo di sangue E l'elfa Che impreca Ad alta voce E poi tocca Ad Ametista Tacito È ancora In mezzo Al criptorio E a Fiore È proprio sotto Le teste del criptorio La creatura Ha cinque colli No? Estremamente lunghi Che sorreggono Altrettanto teste E si sta Spostando in avanti Pian piano Emergendo dall'acqua Ed è sotto Praticamente le teste Che si allungano Per colpire Non sembra essersene accorto Allora io Cerco di spostarmi Lateralmente A dove sono loro Per attirarlo Più verso di me E lancio fulmine Ok Tiro salvezza Su destrezza Ho fatto quattro Sei Oh devo fare i conti Sei Dieci Quindici Diciannove Ventidue Urca Ventotto E Trentuno Stop Sì Trentuno D'anni Colpisci una delle teste Con il tuo fulmine Vuoi descrivere l'incantesimo? Muovo le mani verso il cielo E richiamo verso di me L'energia Dei fulmini E poi ne lancio Uno Direttamente Contro Una delle teste Nel criptorio Ok Quindi Vedi per un attimo L'umidità dell'aria Che si Condensa Sopra l'apertura Poi Appena colpisci la testa Vedi che La forza del fulmini È talmente tanta Che la spinge Verso il basso E la testa Esplode Tutto attorno E diventa Tante bolle di sapone Che si espandono nell'aria Il collo per un attimo Si muove Schizzando queste bolle Di sapone Dall'altra estremità E poi Scompare Rimangono solo Quattro teste Tocca a te Olga Io istintivamente Sto per Prendere il moschetto Che tengo sempre Legato sulla schiena Perché Non appena vedo Un criptorio È la prima reazione Che mi viene istintiva Ma Quando vedo Il fulmine di ametista Sgrano un attimo Gli occhi E Ricordo Che Avevo visto Che comunque Hanno più effetto I colpi magici Su questo Cioè almeno Sulle illusioni Che abbiamo affrontato E quindi Urlo Raggio sterminatore Di Olga E poi Defragazione Urca Ho fatto 21 per colpire Colpisce 5 danni Devo dire Che non è soddisfacente Come il moschetto Ma probabilmente Per te è anche Più forte il moschetto In realtà Quindi ti conviene Scoprire in fretta Se ha Debolezze O resistenza Alla magia Perché Questo è un attacco Tra l'altro Quindi volendo Puoi farlo Un altro Hai molti attacco Comunque come guerriero Ah ok Non puoi lanciare Non puoi lanciare Due incantesimi Di livello Più alto Del cantrip Nello stesso turno Però posso fare Un altro attacco Sì Non so se puoi lanciare Due cantrip Lo scopriremo Boh però Mi ricordo Che le Cioè che avevamo visto Che non aveva molto effetto Le illusioni Eh ma questo Non mi sa che non è Di illusioni Gli è esplosa la testa E però In bolle Ha detto Prendo il moschetto Dalla schiena E provo a sparare Anche il moschetto E faccio 20 per colpire Colpisce Ed è un dado 12 Più 4 Sono 10 danni E osservo Come Prende il danno Ok Spari una delle teste Mentre cala di nuovo Verso Fiore La colpisci All'occhio Vedi uno schizzo di sangue Che si sparge Sulla Sulla spiaggia Non sembra Puccedere niente di strano Tocca Rita Ok L'elfa e la gnoma Continuano a difendersi Mentre tentano Di allontanarsi Approfittando Del vostro intervento Per recuperare Fiato E tre delle quattro teste Rimanenti del criptorio Si girano verso di voi Vedete gli occhi rossi Che vi osservano Per un attimo E poi una testa Che scatta Verso ognuna di voi Ho tanti attacchi Quanto la testa Il primo Credo che Colpisca Sì ho fatto 21 Ametista Di te di sì Il secondo ho fatto 21 Sempre contro di te E poi le altre due Scattano verso Olga 11 e 11 Non mi colpisce Quindi Ametista Prendi 26 punti Di danno perforante Mentre entrambi I becchi ti colpiscono Alla vita Tentando di strapparti Hai raggiunto Il tuo obiettivo Le teste Si sono distratte E stanno osservando Voi invece Che le altre Sulla spiaggia Tocca te Ametista Sono molto Arrappiata Quindi mi ha colpito Mordendomi Praticamente Sì con il becco D'entrambe le parti Quindi è vicino Corpo a corpo O si arriva allontanato Oh mi sono dimenticato Una cosa Ti ha colpito Entrambe le vostre Tu pensi un attimo Se usare scudo o meno E poi trattini L'energia magica E dopo averti colpito Vedi che dalla Moncone di collo Che era rimasto Dove sono esplose le bolle Ricompaiono altre bolle Ma che questa volta Invece di sperdersi Nell'aria Si coagulano A formare altri due colli E uno sbuca fuori Altre due teste Dove prima ce n'era una Va bene Cerco di riallontanarmi Perché è troppo vicino E da dove sta Sbucando Le due teste Mentre ti muovi All'indietro Due delle teste Scattano in avanti Per attaccarti La prima ha fatto 11 Ma senza dargli le spalle E se esci dall'area Di corpo a corpo O comunque attacco Di opportunità Contro di te E il secondo ha fatto 21 Il secondo colpisce Ti fa 11 punti di danno Spaventata Ti sposti all'indietro Tentando di scappare E un'altra delle teste Ti raggiunge E ti ferisce Sembra tanto pesante Vero? Si La creatura Si sembra essere Abbastanza massiccia Il manuale dice Che è una mostruosità enorme Allora lancio Distinto Un altro fulmine Ok Perché è la cosa più potente Che mi viene da lanciare Per difendermi E ho fatto 3 Questa volta Quindi la colpisci in pieno Ti apri il danno Che dadi ti servono? Dadi 6 E non mi sembra che abbia Un cuore Questa creatura Un centro Del corpo Cioè non voglio puntare Una testa Ma il corpo A questo punto A questo punto Vedi le due massicce Zampe anteriori Che stanno uscendo Dall'acqua Sembrano Non terminano in artigli Ma in queste dita Palmate Che si appoggiano Sulla Sulla spiaggia E non riesce a capire Se ha un corpo O un corpo principale Cerco esatto Di colpire Il corpo Non la testa 36 Dai Urca Ok Quindi lo colpisci Che toglie un altro fulmine Un'altra delle teste Esplode completamente E anche questa volta Vedi strane bolle Emergere dal Dal corpo Ha 5 teste E visto che ha 3 metri da me Ok Prende 4 danni In più Per cuore della tempesta Ok Quindi vediamo Che si sta caricando Tutta l'aria attorno Secondo te Ti si stanno alzando I capelli Cioè si vede Questa elettricità statica Paura risponde Sì perché non so Che cosa mi accadrà Per questo motivo Però sì Ok Chiedo per gli ascoltatori Così hanno un'immagine Di ametista Possono fare le fan art Di ametista super seian Polga Tu che sei E vado ancora Di moschetto Però anche io Cioè vorrei evitare Dopo aver visto Cosa succede Dalle teste Di sparare Alla testa Pendi naturali Nice Quindi è Pieni di danno No Possiamo raddoppiare Il risultato di prima Sì Sei il primo No no Ho fatto 11 1 Più Quindi siamo a 12 Più 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 Primo colpisci il corpo Vedi che la perita Il proiettile Si incastra Nel muscolo pettorale Che sostiene Una di queste gigantesche Questi giganteschi arti Anteriori E non sembra avere Una particolare resistenza Ai proiettili Poi spari Un'altra volta E la testa Si mette in mezzo Intercetta il colpo E vedi La testa che esplode Le bolle che vengono Spinte all'indietro Contro il corpo Tocca Rita Che prova A colpirlo Vedete che Si stava ritirando Con Fiore Per aiutarla La spinge via Con una mano E poi Corre in avanti E tira un pugno Alla creatura E La testa non esplode Ma vedi che Incassa il colpo Un dente schizza via Dal becco Accuminato Del criptorio Fiore fuori dal combattimento Che è troppo ferita Quindi tocca il criptorio Ho quattro teste Una attacca Rita Ancora quattro Sono si perché Ne ho avanti altre due Mannaggia Rita che spinge con la mano Il becco E salta al di là Della creatura Schivandolo d'attacco Olga 19 colpisce Colpisce si Ok Si ho fatto tanto Anche il secondo colpisce 28 punti di danno tendienti Vedi che Una delle Delle teste Ti afferra Ti lanci in aria L'altra ti morde Dall'altra parte Poi riesci a divincolarti E cadi sulla Sulla spiaggia Mentre rotoli Sulla sabbia Riesci a tirare un'occhiata E finalmente Vedi anche tu Tacito Fermo sulla battigia È pallido E tu vedi la chiazza di sangue Che si estende Sull'acqua Gli altri due teste La prima fa 10 La seconda fa 24 Non la posso schivare Quindi schivi la prima L'altra Boom Ti schiaccia dall'alto Ho fatto soltanto 7 punti di danno E alla fine Del suo turno Vedi che le bolle Si condensano Un'altra volta E due teste Riemergono Dal corpo principale Tocca Rita Che vi grida Cosa facciamo? Cosa facciamo? Continuano a ricrescere? E poi tenta di colpirla Ma non riesce E poi tocca al capittorio Polica Che guardi così La mia schiena 20 20 e 26 colpiscono? Sì Stavo cercando cura ferite No abbiamo Eh lo so 18 danni Ok Ok Dai dai No scherzo Ametista Ho fatto 22 14 Sei sicuro che si è bilanciato Questo combattimento? Chiedo Giusto così Per l'informazione 14 danni? Per colpire Ah ok Allora 14 per colpire Ovviamente non è vero Tipo usare scudo Lancio scudo Per potreggermi come reazione E un petalo di rosa Mi protegge dal corpo Vediamo l'elettricità Che si condensa un attimo In questo petalo E la testa che viene deviata L'altra cosa ti colpisce E fa 9 danni Taglienti Sei ancora in piedi? Tocca a te Allora intanto Visto che è vicina Lancio franto mare Quindi Una serie concentrica Di Cerchi Di fulmine Si avvolgono La creatura E l'aria si riscalda E Scoppia un tuono Praticamente Eh sì Costituzione è alta Fa 23 In Costituzione Come ne usciamo Da sta roba? Non ne usciamo Tocca a te Olga Attacco 25 per colpire Io nel frattempo Mi sono allontanata Senza dare opportunità Con mia magia tempestosa Ah Allora anche prima Non mi è venuto in mente Ok 12 danni Il primo attacco Ok 19 Per colpire Colpisce 11 danni Il secondo attacco Ok Riesce a fargli esplodere Una testa Con 3 mila Al corpo Un'altra testa Si mette in mezzo E 2 mila In bolle di sapone Sembra Che Abbia la stessa Dinamica Dei fenicotteri Che avete incontrato Cioè le teste Diventano più o meno Corpore per attaccare Poi sfrutta le illusioni Quando viene colpito Recuperare energia È un'azione bonus Si Perfetto Uso anche recuperare energia E tiro un dodo 10 Ci descrivi anche Come funziona? Ah Questa è una bella domanda A cui risponderò Tra pochissimo 11 Allora Nonostante sia Un'abilità del guerriero Vorrei legarla Comunque Ai nuovi poteri Di Olga Quindi in realtà Immagino che Per un attimo Vedendo Com'è conciato Tacito E guardando poi Verso il criptorio Olga si rende conto Che deve per forza Riuscire a sopravvivere Per provare a far sopravvivere Anche le altre persone A cui tiene E Si tocca Con la mano sinistra Il lato sinistro Della faccia Dove ha L'occhio E parte del volto Pietrificati E vediamo che Improvvisamente Lo strato di pietra Si allarga Su tutta la faccia E le ricopre Per un attimo Anche Il petto Dove va a coprire Dove è stata ferita E in quel momento Tu senti la voce Non vuoi parlarmi Non vuoi parlarmi Non vuoi parlare Non è il momento Di fare questi discorsi Mi devi un favore Però E poi ti guarisci Tocca a Rita Che riesce a colpire Il criptorio Colpisce dal basso Verso l'alto Chiudendo All'improvviso Il becco Che stava per colpire Olga E vede anche Lei tacito E vi grida È morto E poi Tocca al criptorio Che ha 5 attacchi Questo turno Quindi due teste Si muovono Verso Rita L'urlo Della ragazza Da articolato Diventa un Puloro Urlo di dolore Mentre le due teste Prendono Rita la lanciano Dall'altra parte Sulla spiaggia Vedete il corpo Che russola Un paio di volte E poi l'agnoma Che non si alza Da dove atterra I limiti del bosco Olga 19 E 23 Colpisce 20 danni La metista Una testa Tenta di colpirti Fa 15 Lo scudo Quindi un altro Quindi non si crea davanti La testa viene deviata Tocca da Usa un'azione bonus Per creare Uno Slot in caddesimo Di quarto livello Ok Quindi Uno Sei punti Stragoneria E Sono vicina ad Olga Sì Lancio porta dimensionale Ok Quindi ti allunghi verso Olga La ferri per il braccio Tu vuoi lasciarti Portare via Però spero Non ho capito una cosa È un attacco di opportunità Questa cosa No non c'è un attacco di opportunità Io non ho capito La situazione Nel senso La creatura È in corpo a corpo Con noi Sì Dove c'è anche Tacito Tacito è sotto le sue teste Sì Quindi non siamo vicini a Tacito No in realtà No Dovete fare qualcosa Per riuscire a prenderlo Ma io la porta dimensionale La faccio anche verso Verso Tacito Nel senso che Mi serve confonderli E mi serve Allontanarci Ok È proprio sotto il criptoreo Quindi se scappi Lasciateli Tacito Allora no Taccio la porta dimensionale Verso Tacito Ok Devi comunque toccarlo Per riuscire a portarlo via Quindi Fammi Ma non posso farlo Comunque non posso portarlo via Tacito Perché è lontano da me Eh sì Ti puoi avvicinare se vuoi Fammi soltanto un tiro su Acrobazia Le devi sgusciare sotto le teste Mentre La creatura è distratta Non è molto alto Il 814 Comunque Ti lanci in avanti Per un attimo Sembra che stai per prendere La mano di Olga Poi vedi di nuovo Tacito E cambi Direzione Tocchi E il corpo Del Del bambine Sparisci da sotto Il corpo del criptoreo Rimergi 300 metri più avanti Verso Fiore E E poi Ti descrivo cos'altro vedi Olga sei rimasta da sola Sotto al criptoreo Vedi La creatura che Si guarda attorno Non capendo cosa sta succedendo Dove sono sparite le sue prele Poi urla Da tutte Cinque I becchi Da tutte e cinque le gole E poi tutte e cinque le teste Si focalizzano verso di te Ok Quindi tutti loro sono abbastanza lontani Sono almeno a 300 metri di distanza Va benissimo Era comunque quello che avevo in mente Metto via il moschetto Perché ho finito i colpi Tiro fuori la pistola La punto verso La creatura E intanto Urlo Cercando di farmi sentire dagli altri Restate distanti Non avvicinatevi più Ci penso io A coprirvi la ritirata E Impugno la pistola Con Entrambe le mani E sparo Secondo me è un momento Molto importante Per Olga Questo Perché è la prima volta Che fa una scelta Per gli altri Così disinteressata E magari anche Passato tanto tempo Dall'ultima volta Che si è sentita Commilitone Con qualcuno E ha fatto una scelta Del genere E ti darei vantaggio Grazie Vorrei Se vuoi ti do ispirazione Così decidi tu se usare Adesso No va bene vantaggio E vorrei anche tra l'altro Usare un punto grinta Per fare un colpo stordente Ok Ok Era 13 più 10 Quindi Colpisce Colpisce Ed è un dado 10 10 danni E appunto Uso il colpo grinta Quindi devi fare un tiro salvezza Su costituzione Ahimè Classe difficoltà 14 Carichi Il cane della pistola Ti sposti di lato Dopo aver gridato agli altri Di andarsene E lasciarti in pratica E tiri il grilletto La polvere da sparo Esplode Nella Camera Della pistola E viene spinta Dentro la canna Il proiettile Inizia a roteare Lo vediamo che piega Un pochino L'aria attorno E parte Della roccia Che ti copre Il petto Si stacca Inizia a volare Con il proiettile Colpisci la testa Della creatura E vedi che a differenza Delle altre Non esplode Il collo si piega All'indietro E inizia La testa a muoversi Da una parte All'altra Come se il collo Non riuscisse a reggere Il peso E tutte le altre teste Iniziano a sfarfallare Per un attimo ci sono E l'attimo dopo Vedi il mare Alle sue spalle Ho fatto 13 Di costituzione Perfetto Quindi Nel prossimo turn Cioè quando tocca a lei Ha svantaggio I tiri per colpire Ok Vado col secondo attacco Sempre alla stessa testa Ed è 24 24 colpisce 7 danni La colpisci ancora E capisci che quella È la testa Reale del criptore Indietreggio È messo male Cioè cerco di fare In modo Avendo visto Quanto si muove Cerco di calcolare Quanto devo indietreggiare Per riuscire a colpirla Nel prossimo Cioè quando poi Toccherà a me Ma senza che Riesca a raggiungermi Per colpirmi Con il becco Non impedisce Di fare gli attacchi Di opportunità Vero? Eh ma non sono in corpo a corpo Ah sei rimasta sempre distante Durante tutto questo? Sì boh Cioè mi immaginavo di sì Però in realtà No vabbè Cioè se lei si era avvicinata Per attaccarmi Effettivamente no Ti ero riuscita a colpirti Sì No no allora no Ho 5 teste A più 8 Però ha svantaggio in tutte Quindi devi segnarti in tutti quanti Quanto hai fatto Merda mi ammazza Mi sto tirando in ordine Con il 5 colpi Mi ammazzo di sicuro Sì Beh non sta andando molto bene Eh ma mi ammazzi comunque Ok Ho fatto 18 20 No 19 20 21 E 16 Allora 4 mi colpiscono Solo il 16 non mi colpisce Ok Le teste si schiantano Sulla riva Dal tuo punto di vista Metista vedi la sabbia che si alza Mentre Olga viene colpita Ripetutamente Ho fatto 25 danni in totale Quando le teste finiscono Di abbattersi sulla sabbia E si rialzano Olga non è più in piedi Come mago Sei un passo dall'apprendere desiderio Questa è l'ultima prova da superare Ma con un 2 su arcana Noti con orrore il tuo grimorio Che sta iniziando a prendere fuoco Le fiamme crepitano e crescono rapidamente Distruggendo anni di ricerche Non rischiare di perdere tutto Assicura i tuoi beni con Lorenzo Brachetti Lorenzo è un assicuratore Gli abbiamo affidato La nostra assicurazione sulla vita Entrambi E anche quelle delle nostre attività Ad esempio il turno di guardia Che è un'attività a cui tengo tantissimo E Lorenzo è il nostro assicuratore Per ogni turno Per ogni partenza che abbiamo È un fan del podcast dei primi episodi È un appassionato di giochi di ruolo Quindi sapete come rompere il ghiaccio E soprattutto è una persona professionale Che si prende cura dei suoi clienti Potete contattarlo Al numero 340-521-1051 340-521-1051 Per mail Lorenzo Brachetti Chiocciala Outlook.it Lorenzo Brachetti Tutto attaccato Tutto minuscolo Chiocciala Outlook.it Grazie Lorenzo Per aver sponsorizzato Questo episodio Di Storie di Vapore E averlo reso possibile Ma adesso è il momento Di tornare Tra le storie E le nuvole Di Kumo Io Non mi ero spostata Sicuramente a 300 metri Comunque Ok E meno Sì perché volevo rimanere In linea d'attacco Cioè per me era importante Non essere più Vicina a 9 metri In corpo a corpo E nascondere tacito Quindi mi immagino Che lì c'era anche Una piccola salita No Verso la montagna Magari Ok quindi sei andata Verso la montagna Sì una trentina di metri Verso Fiore Ok mi sta bene Lasci semplicemente tacito Dove atterri E poi ti rigiri Verso il combattimento Fai in tempo anche a vedere Dalla tua posizione Fiore che sta zoppicando Verso di nuovo Il combattimento E senti l'elfa Che dice Qualcosa del tipo Col cavolo che ti lascio morire E poi Tocca a te Io ho visto Olga che è caduta a terra E mi sono Ho notato la cosa Della testa comunque Sì Lancio Dardo incantato Andrà a livello superiore Un danno Due danni Sarà che non ci credo Tre danni Sei Dieci Più Quattro Quattordici Ma ne rilancio uno Usando un punto Ah no Se io uso Incantesimo potenziato Dice un punto Per ripetere i dadi Per i danni Sì Massimo Di dadi Di quanto ho Per carisma Ma io ho un carisma Più cinque Quindi posso rilanciare Tutti quelli In cui ho preso uno Allora io ho fatto C'era un tre in mezzo Ho fatto tre dadi Per uno Sì E poi c'era un tre E l'altro L'altro è tre e quattro Ok perfetto Quindi rilancio Quindi uno Tre Due E uno Quindi tre due Uno Cinque Sei Sette Tredici Più i danni Da forza Che sono Per ogni dadu E sono cinque Dadi Cinque Quindi cinque Ok Quindi vedi Fiore che sta correndo Con la spada Come può Verso Olga Ti concentri E lanci cinque dardi Magici Verso la testa Che Olga ti ha mostrato Come vuoi ucciderlo Lo colpiscono due Negli occhi E gli altri tre Immagino che vanno a colpire Le bolle Che aveva creato Tutto attorno Ok Dai cinque dardi Magici Vedi Le teste Che esplodono Una dopo l'altra E le bolle Che iniziano a riempire L'intera spiaggia Per un attimo Non vedi niente E poi senti E la testa principale Il resto del corpo Si afflosciano A terra Di fianco ad Olga C'è un attimo Di Di calma Mentre il fiore Continua a muoversi Verso Olga E poi il corpo Inizia a diventare Traslucido E trasparente Mentre il criptorio Piano piano Diventa Il cristallo Che avete già visto Nel precedente catch Urlo a fiore Vai a prendere Gli oggetti magici E io mi fiondo Invece su Olga Ok Vedi Fiore che Ti guarda E poi Cambia direzione Zompicando Più lentamente E tu ti fiondi Su Olga Frugo tra le sue tasche Alla ricerca Dell'oggetto magico Olga Fammi un tiro salvezza Contro la morte Quindici Ok Io però Non voglio che usare Oggetto magico Su di me Beh vanno un po' In motel Non puoi far niente Eh Non lo so Però c'è tacito Che sta morendo Vabbè Ma non è che Quante volte possiamo usare Scusa E secondo me Ha solo una carica Al giorno Ha solo una carica Al giorno Sì E io sono dentro A tre stelle Olga Che si deve Ok Quindi trovi il ciondolo La testa del re Incisa In questo rubino Rosso Lo appoggi Sulla fronte Di Olga Vuoi subire tu Il danno Dei punti vita Che Possiamo scegliere Una cosa narrativa Oppure può essere Direttamente il danno Ma qualcuno deve subire Sì No posso subirlo io Se posso Svengo Non posso fare nient'altro Ok Quindi Ti accasci sopra Olga Mentre Olga ti risvegli Lanciami due da di Quanto era due da di quattro Beh possiamo anche farlo Scalare Con i livelli Visto che è passato del tempo Quindi Facciamo due da di sei Più quattro Senti Dieci Tu ti svegli E il peso Che esista sul corpo Guardo subito Verso Dove ho lasciato Il criptorio E vedo che Si stanno occupando Di prendere gli oggetti Magici E vedi Fiore che sta infilando La spalla E tagliando Una parte del corpo Accarezzo la testa Di ametista Che è Esatto Sul mio petto E la appoggio Delicatamente Per terra E mi alzo E controllo Dove è tacito Ok Lo vedi Abbandonato per terra Vicino All'imitare Del bosco Della foresta Ok Provo a portarmi dietro Il medaglione Anche se Cioè Probabilmente Olga non ha idea Che sia soltanto Una carica al giorno Anche se Lo immagina Però non ci prova Nell'anno In l'accademia Avete imparato A conoscere abbastanza bene I vostri oggetti Magici Ci prova lo stesso Nella disperazione Quindi appoggi Il medaglione Sul suo petto Avanti ragazzino Forza Non succede niente Forza Forza È il momento di essere Forte Controllo come sono Messe le sue ferite A mentire Su medicina 20 È stato ferito Una volta sola Per fortuna E il problema È che ha perso Tanto sangue Mentre era mezzo Immerso nell'acqua Ha ancora un'azione Prima che faccio L'ultimo tiro salvezza E provo a curarlo Con medicina Perché ha due fallimenti Un successo 11 Tiro il dado E vediamo Se è un fallimento Quanto è più grave Ok Mentre inizia a bendarlo A stringere Forte Per fermare il sangue E vedi Che dopo un po' La mano ti ferma È tacito Apri gli occhi Olga Ehi Olga Va tutto bene Non ti sforzare Non c'è bisogno di parlare Resta in silenzio So che è difficile Per te Ma resta Resta in silenzio Gli altri Devi stare Non devi curare me È colpa mia Gli altri Adesso ci pensiamo Agli altri E Mi giro lentamente Cercando di vedere Il più lontano possibile Non c'è traccia Di nessun altro Sulla spiaggia Non vedi Chiara Non vedi Cecilia C'è solo Fiore Che sta ancora Tagliando Il corpo del criptorio Per arrivare All'oggetto magico Che si vede Luminoso all'interno Sono presa Da un moto Di rabbia E tristezza Al tempo stesso Tipo che se avessi davanti L'imperatore O Lucio Gli farei saltare la testa Però cerco Di mantenere La calma E di Cercare Di pensare lucidamente Per quanto sia Debole E molto preoccupata Torno Da Ametista E trascino Il suo corpo Vicino a quello Di Tacito E nel frattempo Dico Cioè ripeto Tacito Promettimi Che resti qui Fermo E che non fai sforzi Devi Adesso vado a cercare gli altri Tu ti devi riposare Chiaro Dovete riposarvi tutti Ti è la sua persuasione Con vantaggio 16 Vedi il bambino Che annuisce E poi chiude gli occhi Per riposare Io cammino verso Cioè verso dove c'è Fiore Che sta tagliando Il cristallo Quindi che a questo punto Ormai ha scavato Un piccolo tunnel All'interno della creatura Che si sta infilando Dentro con la testa E stirando fuori Il cristallo Che contiene L'oggetto magico Ok Resto lì Per osservare Cos'è l'oggetto magico Metti che Può esserci D'aiuto Però nel frattempo Inizio a parlare con Fiore E le dico Devi spiegarmi Cos'è successo E dove avete lasciato Gli altri Capitano Mi dispiace Ma ho dovuto abbandonare Aurora Era ferita gravemente Dall'altra parte Della spiaggia Indica una direzione opposta Cicilia e Chiara Erano davanti a noi Penso che siano al sicuro Adesso tra poco Torneranno Quando si accorgeranno Velante Velante non è venuto con noi Rimasto sulla riva Ok Anche Chiara era ferita Cicilia la stava proteggendo Ok Allora Mi dispiace capitano Ci ha preso di sorpresa Non sono riuscita a difendere Andrò a cercare Aurora Tu Il cristallo si stacca Con un suono Controllo cos'è l'oggetto magico Ho individuazione del magico Ok A piacere Se vuoi lanciarlo Si vede la La Come si dice La Luminosità dell'oggetto magico All'interno Ma il resto è cristallo opaco E non si riesce a capire Si ribaltano gli occhi Cioè l'occhio Diciamo Normale Diventa Bianco E l'altro occhio Diventa Luminoso Quello di pietra E Che cosa capisco Dell'oggetto Quando lanci Individuazione del magico Senti una forte aura Che arriva dall'interno Del cristallo Più forte di qualsiasi cosa Abbiate mai trovato Nel mondo di sopra Finora E Percepisci La Sagoma Di quello che sembra essere Quasi una tunica Di qualche tipo Un mantello All'interno del cristallo Spacca il cristallo con la spada E vedi all'interno Leggermente Bagnaticcio Estrae questo mantello Che cresce subito Per Corrispondere alle sue dimensioni Mentre lo guarda Ricoperto di piume rosa Come Rose multicolori Come i fenicotteri E il criptore Sulla spiaggia Termina in Due piccole Ha come due Come una sciarpa Che gira attorno al collo Dove si innesta Il cappuccio E due piccole Eliche Che scendono Come molle Lei lo guarda Poi ti guarda E fa Dobbiamo andarlo a velante Per farlo andare via In questo momento Non mi interessa In questo momento Dobbiamo prima Tornare tutti Sulla spiaggia Stare tutti al sicuro Tu Lo Cioè cerco di capire Se può essermi utile Cioè cerco di capire Effettivamente Qual è il suo effetto E se lo guardi così L'elfa ti guarda E fa Capitano E ti passa Il mantello E lo prendo Io ho già un modo Per difendermi Non ti lo lascio Lo prendo Richiede sintonia Quindi devi passare 15 minuti Con individuazione Del magico Posso sapere almeno Che tipo di incantesimo è Olga non ha modo Di Beh magari L'hai studiato In qualche modo Ed è legato Alla magia Legata alle illusioni Ok Ma ha una forte aura Protettiva Comunque Ok Non mi interessa In questo momento Cioè nel senso Lo tengo Ma le dico Vai Da metistetacito Assicurati Che stiano bene Appena si risvegliano Dagli qualcosa da bere E cerca dei frutti Senza allontanarti Lei fa un saluto E si dirige Verso i due E io vado Verso dove hanno Visto l'ultima volta Aurora Mentre mi dirigo Sono appunto Cioè sento Una serie di Emozioni Molto forti Mi sento sola Perché non ho Ametista accanto In questo momento E E quindi mi sento Debole Sono consapevole Di non essere abbastanza Per Difendere Queste persone Che non Non conoscono Questo mondo Che non conoscono Questo mestiere E di non essere Riuscita a proteggere Come avrei voluto Le persone a cui tengo Di non aver fatto Un piano Una strategia Vincente Come Come avrei fatto Tanti anni fa In guerra E E sono arrabbiata Veramente tanto Con Chi ci ha mandato qua Perché Penso sia un suicidio Mentre sento Tutte queste cose Mi viene spontaneo Prendermela Con qualcuno Che sento Che è più forte di me E quindi Inizio ad urlare Mentre Mentre cammino A un certo punto Quando ormai Mi sono allontanata Da tutti E sono da sola Da un po' Mi metto ad urlare Al nulla Sapendo che tanto Mi risponderà E gli dico Se c'è qualcosa Che posso fare Per gli altri E se questo Richiede un prezzo Da pagare Allora sono disposta A pagarlo Se vuoi fare qualcosa Per fargli stare meglio O per potenziarli Per difenderli Pagherò io Il loro posto Se devi trasformarmi Altre parti del corpo In pietra Per far stare meglio A metista otacito Per far sì Che non muoiano Su quest'isola Pagherò io È stato un errore Di calcolo Da parte mia Ho assorbito Troppa energia Troppo in fretta Non risuccederà Se vuoi diventare Più potente Penso di avere il modo Ma non sono ancora Convinto Che il vostro arrivo In questo mondo Porterà Ha un risultato positivo Posso darti potere Ma devi promettermi Che rispetterai Le mie direttive E quali sono Le tue direttive Di proteggere Il mondo di sotto Ma soprattutto Di impedire Che si liberi Cioè Di impedire Che torni Unito al mondo Di sopra E lo senti pensare Stava stentità Che tocca i tuoi pensieri Lo senti riflettere Per un attimo Su cosa dirti E poi aggiungere Non so Quello che alcuni Stanno tentando di fare È catastrofico Se io mi sono risvegliato Anche gli altri cinque Si stanno risvegliando Non possono fuggire Da qui sotto Olga E io non sono abbastanza Per te Eri lontano A quanto pare Devi Aiutarmi E non devi più Allontanarti Da me Siete tutti qua sotto Quindi E hai paura Che gli altri Siamo sei qua sotto Che gli altri Vengano liberati Sì Sei Ba Sono familiare Con il termine Cos'è Ba È il nome Che hanno dato Alla divinità Dalle molte facce Nel mondo di sopra Allora sì Io sono Ba E finiamo qui L'episodio Di oggi Ok Oh mamma mia Sette mani Tutto Sì per prendere Il primo oggetto magico Infatti Io speravo Se ne fossero 20 dentro Infatti Io ho sentito Che iniziamo a dire I cinque oggetti magici I cinque le teste No però L'oggetto magico Che avete trovato È Un mantello In inglese È Clock of Displacement È basato su quello Praticamente Permette Mentre lo indossi Proietta un'illusione Che ti fa Apparire Stando vicino Alla location Dove sei Cioè Come se fossi Spostato rispetto Dove sei veramente Le creature Che tentano di attaccarti Hanno svantaggio Se prendi danno La proprietà cessa Fino all'inizio Del tuo prossimo turno Quando viene colpito Si accorge Per il resto del turno Viene ingannato In più Come al solito Potete aggiungere Una abilità Che volete Però quella avrà Un costo Un cura felice Io suggerirei Di aumentare Un pochino La classe armatura Le avventure Ametista È interpretata Da Viola Sanguinetti Che trovate Su Instagram Come Viovagram La copertina Del podcast E character design Sono di Marco Mallia Che trovate Su Instagram Come Mallia Marco Le musiche Le musiche Sono di Nomana Music Che trovate Su Instagram E Spotify Come Nomana Music Editing Sound design Sound design Di Giada Taribelli Beh comunque Avete bisogno Di altri Oggetti magi Io ho bisogno Di uno psicoterapeuta Non ho bisogno Devo ricominciare Ad andare in terapia Dopo queste sessioni Cosa ho fatto di male Ma perché Cioè Mamma mia Troppo emozione È morta soltanto Aurora Che vabbè Non sapevo neanche Come è morta Io la sto andando a cercare Non è morta Non è morta È andata in un posto migliore Allora Per i bambini che ci ascoltano Non è vero Sto scherzando Cioè è stato un attimo In cui Io sono andata a terra E mi sono reso conto Che avevamo Il Cioè L'oggetto magico Per curare Ome Otacito E Se ci fosse stato da scegliere Io ero pronta A sacrificare Olga Cioè Ero pronta A fare una scena A interrompere tutto E fare una scena In cui Grazie al creatore Olga entrava Nella testa di ametista E le diceva Non usarlo su di me Usalo su Tacito Ma tanto Ho deciso No Ti avrei obbligato a farlo No cioè Però È stato figo Perché Cioè mi sono resa conto Che Olga È cambiata tanto Quindi è stato Un bel episodio Ma io Perché avevo Grande fiducia Nel fatto che poi Tu avresti trovato Un modo per salvare Anche Tacito E insomma Ci abbiamo arrischiato Un po' Rischiato tanto Perché ha fatto Un undici tiratissimo Due dicine Eh però Cioè Sono altre persone Voglio dire Nessun altro È venuto a controllare E a usare Delle In testa Per andellarla Di botte Se vuoi E poi le facciamo Uscire il vernoccolo Tipo Cartone animale Ah che fatica Non siamo così forti Beh oddio Viola Penso che tu Gli abbia fatto Su 172 punti vita Gli avranno ritolto Un centinaio Con 4 attacchi E ho capito Ma ho 50 punti ferita Eh sì Eh sì Sei un glass cannon Cioè più che altro Perché era un corpo a cuore Olga deve tancare più danno Ma è vecchia Olga Lasciatela stare Pronta a morire No dovevo Cioè scappare prima Perché Giada fa sempre scelte Un po' inefficienti Delle multiclassi Perché Perché prediligo Il ruolo Al posto che La scheda fatta bene E ci sta No lo capisco Non lo sto dicendo Che è un male Però l'effetto Che Cioè Massacrato di botte Eh ma in realtà Mi piace l'idea Cioè Ha senso Nel senso Una vecchietta Non è più Il fiore degli anni Sì Cioè non è più agile Cioè ci sta che in realtà La sua classe armatura Si abbassa Perché comunque Per quanto sia un guerriero Ma Ha un piede nella fossa Cioè È un po' rallentata A proposito di fiore degli anni Fiore Fiore Ti ha lasciato l'oggetto magico Non tutti gli altri Sono cattivi Sì ma mi ha anche chiamato Capitano più volte Ho apprezzato questa cosa Allora è vero che è molto grossa Estremamente grossa Però è fino a 250 chili Quanto pesa un elefante? E la madonna No allora Allora Che senso Non c'è non avevo il senso Della percezione Posso ripare Questa scena Quanto sarà? 5 tonnellate Un elefante? 6000 chili 6 tonnellate Ma sono sconvolta da questa cosa Anch'io Pensavo fossero tantissimi 250 chili No Però possiamo fare così Se mi trovi un modo creativo Per usarla Che non sia sollevare L'intero corpo Ma fare qualcosa Possiamo anche provare A vedere cosa succede Le sollevi solo una zampa Così si sbilancia E poi metti la mano così Tentando di insegnarli La neghi Ah no È acquatica Tentando di insegnarli A mettere la mano Bravo Bravo Cryptorio Niente lancio frontumare Ok Restate distanti Non avvicinatevi più Ci penso io Coprirvi le spalle Cioè Coprire le spalle Aspetta